E' una passione nata fin dall'infanzia per il legno, poi con l'andare del tempo ho scoperto Il torneo, la cosa prima che fai al torneo sono le trottole, il gioco forse più antico del mondo Ha cambiato nome negli anni, ha cambiato materiale però sempre trottola è Bisogna stare attenti più che altro al peso dei legni, devono essere legni più pesi, duri E che siano molto omogenei perché se da una parte è più leggero e dall'altra è più peso C'è un nodo, sono squilibrate e non girano Ci sono state le trottole addirittura e mi è toccato metterle del piombo dentro Come si fa con l'equilibratura delle gomme, si fa l'equilibratura sulle trottole Andando con i tempi anche la tornitura è andata a sparire perché ci sono i torni come andati Il computer, il controllo numerico, ne viene fatto non un pezzo, ne viene fatto diecimila Tutti uguali, però questo rimane una cosa unica, sono tutti pezzi unici Non si ripete mai, anche se si potrebbe, però non si ripete mai la stessa cosa Vedo che davanti al torneo, quando mi metto a tornire, la gente riscopre anche la manualità Grazie a tutti! Grazie a tutti!